Stai bene? Mi stavi pedinando? No, io ti ho vista cadere. Ah? E casualmente facevi un giro nel cimitero? Ero in visita, ho dei familiari qui. Oh, wow, grande tatto. Esatto, scusami. È la nebbia, nebbia anche me. E lì c'era, c'era, c'era quel corvo e faceva molto Hitchcock per un secondo. E il film con gli uccelli è di Hitchcock. Mi chiamo Elena. Io Stefan. Lo so, frequentiamo storie insieme. E inglese e francese. Giusto. Oh. Grazie. Bell'anello. Ah, è di famiglia. Già, lo porto sempre. È strano, eh? No, è solo che, insomma, ci sono anelli e quello... Ti sei ferita? Ti sei ferita? Oh, non lo so. Ah, ma guarda qui. Non fa un bel effetto, eh? Stai bene? Dovresti andare. Medica quella ferita. Davvero, non è niente.